raga ciao cosa fai qui no chef allora interrotto un video nel pandino quindi dammi subito una motivazione valida di che cose voglio oggi ma a dire il vero avevo in mente qualcosa però ti perdono solo se mi fai qualcosa di veramente buono fammi delle crepe donna che fame ci avevo proprio voglia assaggiamo tra l'altro appena finito di allenarmi madonna io ti amo ti amo